Qualità del lavoro e il servizio alla salute sono strettamente connessi, arriva a dirlo è la CGL. A 24 mesi di pandemia è proprio la sigla che torna su uno dei punti cruciali, cioè l'organizzazione del lavoro in ambito sanitario. Nella nota diffusa alla stampa si parla degli ultimi due anni come un'efficace cartina torna sola che mette a nudo le falle e le ineguatezze sul territorio nisseno. Dai tagli continui ai piani di rientro ad un impianto organizzativo che come evidenziato dal sindacato avrebbe retto solo grazie al grande lavoro e allo spirito di sacrificio di tutti i professionisti impegnati. E' da tempo che noi contestiamo all'azienda sanitaria, alla direzione sanitaria dell'aspe di Caltanissetta una cattiva gestione del personale. Torniamo a ripeterci su questo elemento perché lo riteniamo fondamentale. Una buona organizzazione del lavoro, una buona organizzazione dei lavoratori non solo da anno forniscono qualità nel lavoro e in questi periodi a cui stiamo assistendo dobbiamo costantemente anche tutelare questi lavoratori che sono costretti anche ad orari massacranti proprio per tutta l'emergenza che si sta susseguendo e allo stesso tempo è per dare un servizio di qualità alla salute pubblica di tutti noi cittadini. Noi da mesi chiediamo all'azienda la motivazione dei vari trasferimenti, spostamenti del personale, chiediamo dove è allocato il personale Covid che è stato assunto in piena emergenza perché riteniamo che questo personale non sia stato allocato in maniera efficiente ed opportuna. Quindi è bene ritornare un po' sui suoi passi, riaprire il confronto sindacale con le organizzazioni sindacali che tassano il polso dei lavoratori e questo è quello che noi chiediamo all'azienda che sembra completamente sorda alle nostre richieste. Le procedure di stabilizzazione promesse del governo regionale ci vedranno molto interessati anche alle modalità di come verranno esplicitate perché non possono essere un bacino di consenso a scapito del servizio sanitario che deve essere offerto. In questo tiro alla fune resta la centralità della salute come bene universale diritto fondamentale per la collettività.